Cinquantasettesimo giorno dall'inizio dell'anno. Siamo sotto il segno zodiacale dei pesci. La chiesa ricorda San Vittore Eremita. L'onomastico. Oggi è l'onomastico di Cornelio. Il nome è di origine latina e significa duro, resistente. È un nome ormai in disuso, così come la variante femminile Cornelia. Accadde oggi. Il 26 febbraio del 1991 viene rilasciato World Wide Web, il primo browser per navigare il web, che però non raggiunse mai il grande pubblico, essendo stato creato essenzialmente a scopo dimostrativo e di ricerca. Chi è nato oggi? Tra i personaggi famosi nati il 26 febbraio ricordiamo il cantante country americano Johnny Cash e la cantante Siria. La citazione del giorno. Non importa in quanti pezzi sia frantumato il tuo cuore, la vita va avanti e non aspetta che tu lo ricomponga. Paolo Coelho. Dice il saggio. Aria di importanza, diploma d'ignoranza. Il bel paese. Tra i luoghi più affascinanti e misteriosi di Napoli c'è sicuramente la Cappella di San Severo. Oltre ad essere stata concepita come luogo di culto, la Cappella è soprattutto un tempio massonico carico di simbologie che riflette il genio di Raimondo di Sangro, settimo principe di San Severo, committente e ideatore dell'apparato artistico settecentesco. Il tesoro della Cappella ricca di opere d'arte è il Cristo velato, un vero capolavoro famoso nel mondo che rappresenta il Cristo a grandezza naturale, coperto da un sudario talmente trasparente e finemente ripiegato che non sembra assolutamente essere di marmo. Per questo c'è chi ritiene che la sua trasparenza sia il frutto di un processo alchemico di marmorizzazione compiuto da Raimondo stesso. Un'altra grande attrazione è custodita nella cavea sotterranea. Si tratta delle famose macchine anatomiche, due corpi scarnificati di un uomo e di una donna in posizione eretta, con il sistema artero-venoso quasi perfettamente integro. Ancora oggi non si sa attraverso quali procedimenti si sia potuta ottenere una simile e perfetta conservazione dell'apparato circolatorio. Grazie a tutti.